Allora, siamo qui con Riccardo Sabadini, presidente del Toro Club Tori Seduti. Intanto, da dove nasce questo nome e da dove nasce la passione per i colori Granata? Tori Seduti perché essendo il club dei tifosi in carrozzina ci è sembrato simpatico a sbinare l'immagine dell'indiano famoso per la sua tenacia e grinta del XVIII secolo con la passione per i colori Granata, quindi il Torino, Tori Seduti in carrozzina. Siamo nati nel 2005-2006 quando con i primi problemi dovuti alla legge Pisano che limitava in maniera burocratica più che problematica l'accesso alle tribune in quanto col bietto del nominativo si doveva continuamente farsi registrare. Noi abbiamo chiesto un incontro col presidente Cairo che era appena arrivato per avere una qualche agevolazione perché in quel periodo la procedura era quanto lunga. Doveva essere una procedura che fuori dai cancelli, che venivano aperti di volta in volta facendo passare una carrozzina per volta o due, quindi in caso di pioggia eccetera si restava fuori a bagnarsi. E la passione Granata da dove arriva? Da generazioni? È una cosa che è nata? Come? Beh in famiglia siamo tutti del Toro, all'epoca c'era mio fratello la pecora bianconera Cercavo di farmi diventare della Juve ma non c'è riuscito Fortunatamente non c'è riuscito E allora come giudica questo inizio di stagione, insomma il Toro è tornato finalmente dove gli compete sembra che ci stia bene diciamo Sì, ci sono qualche problema di assestamento Ovviamente l'esperienza da Serie A è quella che ci manca e abbiamo da fare solo esperienza perché la squadra è allenata da un grande allenatore che sa il fatto suo e sperare solo di sistemarsi in attacco con Bianchi e trovare il compagno giusto per fare gol Un commento anche sulla crisi del gol Granata perché la porta resta sempre inviolata grazie a Gillet però davanti a parte Bianchi ci sono un po' di problemi a segnare Esatto, quello che stavo cercando di esporre prima il problema è che Bianchi, lui, la Serie A in campo internazionale l'esperienza ce l'ha il problema è trovare il partner ideale in quanto Meggiorini non convince è molto disponibile, si fa in quattro però la porta non riesce a vederlo Sgrigna, gli manca l'esperienza da Serie A e resta da trovare sperare in Sansone che è l'unico che anche i tifosi sperano che sia lui il partner ideale oppure Abou Diop Esatto, perché ci sono molte appunto discussioni tra i tifosi su se si possa veramente sostituire Diop o con Diop o Sansone Meggiorini che sta un po' deludendo Lei Sansone si aspetta di vederlo in campo prima o poi visto che Ventura sembra non voglia utilizzarlo gli ha concesso solo pochi scampoli Io spero che Ventura veda finalmente Sansone e lo faccia entrare e in Serie B Sansone l'anno scorso ha fatto molto bene se poi entrasse anche Diop io c'ho già lo slogan che sarebbe? finché c'è Diop c'è speranza Diop vede e provvede perfetto, allora siamo in posto va benissimo, ringraziamo Riccardo e grazie e un saluto a tutti i tifosi e naturalmente forza vecchio cuore Granata Grazie a tutti